Al mio segnale, scatenate l'inferno. A tre settimane da oggi, io mieterò il mio racconto. Immaginate dove vorrete essere, perché così sarà. Serrate i ranti, seguitemi. Se vi ritroverete soli, a cavalcare su 20 braterie col sole sulla faccia, non preoccupatevi troppo, perché sarete dei campierisi e sarete già morti! Fratelli! Al mio segnale, scatenate l'inferno. Fratelli! Ciò che facciamo in vita, riecheggia nell'eternità. Ti chiamo Massimo Dedio Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni.